Buonasera a tutti, ci troviamo nella zona turistica di Avetrana, la nostra zona amata, zona Ulmo. Come ben notate, siamo al quinto appuntamento, come ben notate, ripeto, è tutta illuminata, illuminata con 350 punti luce, tutti a led. Finalmente la nostra zona Ulmo è stata messa a giorno, dopo anni e anni di buio vede la luce. Questo grazie ad un progetto di risparmio energetico a led, non solo per la zona Ulmo, turistica di Avetrana, ma anche per tutta Avetrana e anche la zona industriale. Abbiamo illuminato anche la zona industriale. Oltre a queste tre direttrici abbiamo le direttrici di entrata e di uscita di Avetrana, che sono state anche tutti quanti illuminate. Questo è il sesto appuntamento di opere pubbliche ben portate a termine. Arrivederci e alla prossima. Grazie.